Oggi il presidente Mattarella ci ha invitato a essere uniti come siamo stati nel 45, uniti. Ha mai sentito parlare della divisione Osoppo, presidente Mattarella? Era una divisione di partigiani bianchi, la nostra resistenza ha avuto tre colori, esattamente come la nostra bandiera. Ha avuto i Verdi, Giustizia e Libertà, Loriana Fallaci e Primo Levi, tanti ideali, poche armi e nessun addestramento. Poi ha avuto i Bianchi e questi hanno fatto veramente la guerra, che erano i Badogliani, quelli che avevano le armi, gli ex militari, che le sapevano usare ed erano in contatto con gli alleati di cui eseguivano gli ordini. Fammi saltare quel ponte e verrà la neve in quel posto lì, ci arrivano i paracadutisti, cerca di essere lì che non gli spaino addosso i tedeschi. Ma poi abbiamo avuto i Rossi, quelli che eseguivano gli ordini di Stalin. Ed esattamente come spiega Giorgio Orwell in 1984, i partigiani assassinati da altri partigiani sono più numerosi dei partigiani assassinati ai nazifascisti. Lei non sa, Presidente Mattarella, che la divisione Osoppo è stata massacrata dai partigiani titini, cioè dei Rossi. Lei non sa che a guerra finita sono stati massacrati dei civili, dei partigiani rossi. Lei non sa che c'era un triangolo rosso di cui non abbiamo mai contatto i desaparicidos. Lei non ha mai sentito parlare di un ragazzino di 14 anni assassinato perché era addosso una canale. Quale unità c'era nel 1945? E lei è veramente molto, 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 molto disinformato. Oppure lei ha detto intenzionalmente una cosa che non risponde del vero. Meriteremo un Presidente migliore.